Solo fra gli alloggi di edilizia residenziale pubblica lasciano a desiderare i cittadini, protestano l'amministrazione comunale, chiama la Regione. Siamo al quartiere Turcicastello e gli immobili portano su di loro il segno di una manutenzione che semplicemente non c'è e dove si è intervenuti i risultati lasciano decisamente a desiderare. Sotto accusa finisce anche la rete fognaria e quella di raccolta dell'acqua piovana. Se non fanno l'oscuro che dice i tombini principali, noi c'è la gamba sempre qua. Un appello alle istituzioni. Di prendere provvedimenti, urgentemente, perché è anche una cosa di igiene pubblica questa. Anche l'illuminazione pubblica qui lascia a desiderare. Praticamente siamo in balia dell'oscurità, questo è. Il sindaco Nicola Moretti corre ai ripari, avviata una interlocuzione con l'Agenzia Campana per l'edilizia residenziale. Per l'inquilino di Palazzo Orsini è necessario attuare un piano di radicale ristrutturazione del patrimonio edilizio residenziale pubblico della cittadina conciaria.